A un anno dalla firma del protocollo d'intesa si va ora verso la costituzione del tavolo locale del masterplan di valorizzazione del litorale Cilento Sud. Il prossimo 19 febbraio alle 15 a Dacciaroli si riuniranno la regione Campania, il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri, i componenti del partenariato economico e sociale della regione e i sindaci dei comuni di Ascea, Camerota, Casalvelino, Centola, Ispani, Pisciotta, Pollica, San Giovanni Appiro, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati. È l'area direttamente interessata dal percorso programmatico di sviluppo della costa voluto dalla regione e già sperimentato su altre due aree del litorale campano, quello Domizio Flegreo e quello di Salerno fino ad Agropoli. Il 19 febbraio si terrà un incontro informativo sul bando per la costituzione del tavolo tecnico che scadrà il prossimo 28 febbraio. L'obiettivo è favorire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio e che intendano contribuire all'ideazione del progetto del masterplan e alla sua attuazione. È la fase in cui si chiede la più ampia partecipazione. La progettazione punta a risolvere i problemi da sempre lamentati sulla costa, in primis l'erosione, a implementare le infrastrutture del litorale e a dare ad esso nuovo slancio turistico ed economico, migliorando la sicurezza, l'accesso ai servizi, operando per la sostenibilità e il contrasto alla povertà. Parole d'ordine dunque rigenerazione urbana, valorizzazione ambientale, riqualificazione dei paesaggi e delle filiere agricola e zootecnica e rafforzamento della mobilità di collegamento.